a tutti i costi quando forse poteva cercare una soluzione migliore Rimessa per Jerome Allen a tutto campo la difesa adesso della Pierrella con Pozzeco che va a caccia del fallo su Michele Antonuti 3 minuti 5 secondi da giocare, le scuse di Pozzeco su Michele Antonuti un po' presto per mandare gli avversari nell'uneta per la Pierrella ma credo che comunque il Pozze più che altro ha voluto mandare un messaggio alla Snyder che in questi 3 minuti, comunque ogni passaggio, ogni palleggio, la Snyder dovrà sudarselo e lo sta già facendo da 3 minuti a questa parte con Capodorlando che sembra essersi risvegliata totalmente, magari un po' tardi visto che era sotto di 17 a 6 minuti dalla fine però sta recuperando punto per punto e si sta avvicinando nonostante Antonuti dalla lunetta sia il fallito 2 su 2, molto 5 minuti un po' tardi Grazie a tutti.